Immagini del primo turno dalla Rai senza commento, aggiungiamo anche qui come per la Coppa dei Campioni i marcatori di queste partite. Qui in bianco e nero vediamo Barcellona Steaua di Bucarest, finisce 5-1 qui in vantaggio il Barcellona con Eredi al quarto minuto. Si gioca al Camp Nou il 14 settembre del 77 alle 20.45 davanti a 60.000 spettatori arbitro Ernst Dörflinger, lo svizzero punto arbitro che qui decreta un calcio di rigore che Cruyff al quinto minuto trasforma, 2-0 dopo 5 minuti. E ci trasferiamo al trentesimo per vedere il 3-0 con ancora Eredia, gran gol di destro qui esterno che si infila Alla destra del portiere dello Steaua, Moraru. E nel secondo tempo arriva il 4-0 di Clares. Il gol di Clares al 65esimo, Nastase accorcia al 72esimo per la squadra rumena. All'ottantaduesimo arriva il 5-1 di Zuviria per il Barcellona, che vince 1-3 anche al ritorno e passa il turno.